ciao bimbi come state oggi lavoriamo insieme sui cinque sensi e vedremo assieme la vista allora questa volta lo facciamo giocando un po e chiediamo l'aiuto di mamma e papà per giocare assieme ci serviranno una serie di oggetti da disporre davanti a noi di varie forme di varie dimensioni io ho scelto questi qua allora un orsetto un'arancia un camion dei pompieri un gioco in statola una pigna e un bel libro metteremo questi oggetti davanti a noi e poi con l'aiuto di mamma e papà li guarderemo bene 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 cercando di ricordarceli chiuderemo gli occhi senza sbirciare e poi mamma e papà toglieranno uno di questi oggetti alla volta ad esempio il camion dei pompieri rimetteranno tutto al suo posto e noi dovremo cercare di ricordarci quale oggetto è stato tolto ora una volta indovinato quale sarà mai il camion dei pompieri possiamo rendere le cose più difficili invertendo gli oggetti tra di loro quindi chiuderemo bene gli occhi mamma e papà toglieranno uno di questi oggetti ad esempio la pigna e poi invertiranno l'ordine di alcuni di questi oggetti per rendere le cose un po più difficili ecco qua ora è davvero complicato e potrete andare avanti così rendendo le cose sempre più complicate ciao bimbi buona giornata ciao 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 ciao